Ciao love, hola chic, hola chicchi, ciao belli, ciao belle, ciao Allora, avrete già visto i miei nuovi bambini Però, il video questo, allora, ve lo metto dopo Perché vi ho fatto proprio lol, sì lol, della mia nonna in cariola Vi ho fatto il video mentre me li faccio Quindi vi ho fatto il vlog E allora, siccome vi faccio la sorpresa nella micro... Non parlo, sono micro spia Nella miniatura Allora, vi dico dove ho fatto il microderma Allora, boh, dunque Oggi ho anche provato a fare un trucco un po' più yeah strong Ma ho dovuto usare due paletti, quindi Makeup Revolution e Wycon Allora, sulle labbra ho il mio meraviglioso color drink Che mi ha mandato Giorgia E questo è Marshmallow, mentre io avevo l'altro Che ora io non mi ricordo il nome perché l'ho dal mio babbo Ma era, vi giuro, uno dei colori più belli in assoluto E secondo me è una delle tinte veramente che valgono più in assoluto Vi faccio vedere il trucco, comunque E niente Qualcuno mi ha chiesto di come sono le Nabla Qualcuno mi ha chiesto di Kat Von D Sto cercando un po' di testarle tutte E comunque poi vi faccio un video Almeno dove le faccio vedere E questi sono i miei nuovi bambini Guardate quanto sono belli Ne ho altri da fare Io lo dico nel video, mi raccomando ragazzi Non fateli da sole voi perché Cioè, io veramente sono un caso patologico Nel senso che sono una persona a parte Comunque vi faccio questo video perché me l'avete richiesto in tantissime Stamattina ho visto un altro video Che parlava di una situazione un po' particolare Appunto di queste droghe, di queste situazioni E mi è venuto in mente appunto Ora vi farò il video sulla mia esperienza Ma è un video molto molto delicato e particolare Quindi oltretutto dovrò utilizzare Quando fa così sembro scema Devo stare tipo Allora, non troppo così Perché altrimenti mi è la gobba e c'è un naso tipo strega, no? Devo stare un po' piegata così Tipo di lato E comunque mi voglio fare pure le labbra E' un video molto delicato Quindi comunque devo un attimino vedere come farlo Di cosa dirvi Perché comunque ci sono anche delle ragazzine che mi guardano Quindi dovrò vedere se farlo con il blocco età Comunque con il blocco età oltretutto Allora, questo è un video che mi avete richiesto tantissime Cioè, i video dei mascara Sono migliorata Due minuti e trenta E già comincio a parlare del video Quindi cominciamo Allora Io ne ho ora Uno, due, tre Quattro Cinque, sei, sette mascara Che sto utilizzando Nell'ultimo periodo Come sapete No, come sapete Comunque vi ho sempre detto Che a me mi prende le fisse Quindi mascara Se non sono stra buoni A me dopo un po' Poi mi viene la palla Nel senso Non me ne piace uno Non me ne piace Non me ne piace uno E quindi siccome ultimamente invece sono rimasta molto contenta Ho detto Vabbò io le faccio Pure vedere Tanto oramai Mi conoscete Ve lo faccio vedere Perché Altrimenti poi Non lo metterò mai Non lo metterò mai Ma poi dico delle cose Non mi ricorderò mai di Scusate Farvelo vedere In altre situazioni O comunque Forse se riesco Farò un trucco Ma Allora Vi volevo far vedere Come base Per il trucco di oggi Ho utilizzato Mi non faccio sti capelli Che sono una tragedia Che poi mi tocca La lavameli spessissimo Non lo aspettate Allora Come base Mi vorrei tanto fare Arca puttana Le trecce Ma Ho utilizzato Questa qui Della essence Che avevo Quella verde Che ho dovuto buttare Perché comunque Era andata E poi le sopracciglia Ci ha farei da rifarmi Però ok Queste ciglia finte Sono molto molto belle Perché sono molto Delicate Sono molto delicate E devo dire Che a me piacciono un sacco Però sono di ebay E sono vecchissime Quindi Non saprei Neanche come mettervi Il link Sono queste Ciglia qua Queste qua Queste sono Queste un'altra Queste qua E mi ci trovo Molto bene Allora Se no vedete Ora siamo a 5 minuti Comunque ragazzi Sono una figata pazzista Mi piacciono un sacco Comunque tutti Sti ferri Il bello Di questi ferri È che Prima o poi Poi il ferro Se toglie Cioè neanche te rimane a vita Comunque Questi qui sono gli effect E i shadow Dell'essence Sono quelli che erano vecchi Io c'avevo questo Il giallo e il verde Sono similissimi Agli ultimi che hanno fatto Quelli appunto Che sono andati tanto E non so chi me l'ha detto Infatti Io ho quelli Ve lo faccio vedere Ora non so che cosa Vedrete con questa luce Però il prodotto È questo E come vedete Hanno una luminosità Bellissima Vedrete qualcosa Io spero che vediate Ma credo che non vedrete Assolutamente niente Infatti Boh Spero che riusciate a vedere qualcosa Con la luce non rende Ma hanno una bella Non sono esagerati Come questi Che anche questi Ce ne avevo da Un botto di tempo Questi sono della Rimmel Gli Scandalize E io ho questo grigio E un altro colore Vi faccio vedere cosa non è questo Questo è Questo Cioè Ecco Ecco cosa non è Questo Oh mio Dio Cioè L'ho utilizzato in diversi trucchi Come base Sono veramente Veramente Spaziali Eccoli qua E Mentre questi Sono sicuramente Molto meno pigmentati Di quelli di ora Però Ottimi comunque Perché costavano una miseria E la base È stata quella Vabbè Dai Madonnina È cascato Il telefono Cioè Meno male è cascato Qui sopra Era purtroppo Cioè Messo qui un po' Alla Dio Bonino E Ho chiuso il cassettino È una tragedia Però Ragazzi Cioè Bisogna che mi compri Ce l'avevo Una specie di Cavalletto Vabbè Chiudiamo Perché veramente La stoffa è lunga Allora Vi faccio vedere I primi due Che sono I Come li chiamo io I corsetto Della Essence Allora Vengo un po' più dietro Perché c'è una macchia C'è una macchia Nel telefono Non si vede Allora Sono questi due Come sapete Ce ne sono tre Manca il verde Allora Questo l'ho ricomprato Ultimamente Devo essere sincera Mi ricordavo Che era molto meglio E in verità Sono rimasta Abbastanza delusa Allora L'arancio è questo Quello con la gobetta Mentre Quindi di questo Vabbò Comunque mi ricordavo Che era buono E per questo L'ho comprato Mentre Quello con cui Mi sono trovata Da pazzi È quello viola Quello viola È micidiano A me mi fa impazzire Allora Quello viola È questo Che sarebbe Questo viola È uno sculpt E questo è un volume Sculpt volume E questo è un volume Il prodotto È questo Cioè nel senso Lo scopolino È in silicone Ed è in velcro No il velcro È quell'altro In silicone Ed è fatto così Ma mi vedete Con la luce sparata Vabbò È il problema Di questa macchia Che sta sputtando Il cellulare Della mia mamma Allora Questo è ottimo Vi volumizza Le ciglia In maniera Esagerata E io spesso E volentieri Lo uso Anche con le ciglia finte Devo dire Che È migliorato Anche nel seccare Quindi non vorrei Che anche questo Con poco tempo Ma mi ricordavo Che mi era piaciuto tanto E per questo Però non vorrei Che fosse stato quello verde Non mi ricordo Vabbò Questo mettiamolo Appartoniamolo Comunque questo È davvero ottimo Per il prezzo Che ha È validissimo Poi Altri due mascara Che comunque Sono molto buoni E sto accoppiati Anche questi Sono questi due Questi della Maybelline E sono Uno è il Falsis Push up drama Indecent black E uno è il The Falsier Anche quello Push up drama Uno è il drama E uno è un angel Questo è il drama E questo è il angel Allora Il drama ora È un po' di tempo Che comunque Non lo uso E questo invece C'è lo scopolino Penso sempre In silicone Delcro Questo è quello Bello duro E anche questo Devo dire Che fa Un bel effetto Mi è piaciuto Molto questo Per questo Perché il rosso Mi era piaciuto tanto Ho comprato Perché anche il rosso Ultimamente lo uso poco Comprai questo qui Allora Questo invece È particolarissimo Perché ha Questo tipo di scopolino Che è praticamente Inesistente Io mi trovo Da dio Con questo A fare le ciglia Di sotto Perché le ciglia di sotto Come sapete Essendo un po' più fine Si fa un po' più fatica Ma le Drizza In una maniera Incredibile Allora Questo mascara Almeno io Mi sono trovata Benissimo Anche se all'inizio Dovete un attimino Imparare a capirlo Perché Perché ha uno scopolino Molto particolare Prende le ciglia Molto bene Però va usato Altrettanto bene Nel senso Dovete essere Ah io ero amaceo Ora mi cavo un occhio Cioè Questo trucco È grotto al giorno Che figata Dovete Cioè Dovete lavorarlo Molto Però fa Delle bellissime ciglia Le distanzia Moltissimo E le allunga Anche abbastanza Non è tanto Volumizzante Ma devo dire Che a me È piaciuto Molto Adesso Veniamo con i pezzi Forti Che gli ultimi Forti Ve le lascio In fondo Allora Questo È Quello lì Che c'era Il dra Non si doveva sentire C'è topi Comunque C'è un sacco Di topi Un sacco Di tarpe In casa E fanno Un bordello Oh mio Cioè Ci manca pure Questo Adesso Scaricatore Scarica qua sotto Vieni Allora Intanto Facciamo vedere La tetta Che sembra Come uno scaricatore Di porto Allora Questo fa parte Del manga Io ho Odiato Alla pazzia In manga Tutti L'hanno sannato Tutti Lo amavano E io ho Odiato Per il mascara L'ho comprato Ma l'ho usato Un paio di volte Mi ha fatto Veramente schifo Non mi piaceva Cioè pure Pure il maiale Faccio Mamma mia Ma come cazzo Guardami Ragazzi Sono veramente Indecente Vabbò Comunque devo dire Che Sono molto più brava A fare i trucchi Di tante altre Che sono arrivate Più là Di me E veramente Ragazzi Ci mettano Le mani C'è un po' Da fare Non posso scherzare Però Ho sempre avuto Una manualità Abbastanza buona E Comunque Cioè mi perdo Nei neandri Allora Quindi Cosa ho detto È uscito questo Ho detto Proviamo Questo invece È il Mega Volume Miss Baby Roll Waterproof Allora A me che siano Waterproof A me non mi interessa Perché sinceramente Non vado né in piscina Né qui né là E quindi a me Che resistano All'acqua Sinceramente Mi interessa poco Lo comprei per caso Perché dissi Voglio vedere Se questo è Una sciofecata Come l'altro Perché può anche l'altro Una sciofecata Secondo me Perché comunque Come sapete Il Miss Manga È stato Uno dei mascara Migliori Veramente Per un periodo Su Youtube E quindi L'ho comprato Allora Lo scopolino È questo È fatto tipo Così Come si può dire A vite E Sempre in velcro Quindi Duro Che poi Aiutatemi a capire In silicone Secondo me Sono questi Perché il velcro Dovrebbe essere Quello morbido Mentre il silicone È questo bello Chiudo perché Mi mamma Ha aperto L'aspiratore Io naturalmente Sono prevestita A casa Perché c'è Mia piscina Passo le mie giornate In casa No vabbè Che c'entra Però E Inizialmente Va Sì Mi è piaciuto Perché già Da subito Vedevo l'effetto Flop Però Lo sto amando Perché Allora Innanzitutto Lo uso tantissimo Anche quando Ho le ciglia finte Nel senso Riesce molto bene Sa Non lo guardi Il pallino Ami Il pallino Il pallino Porca Invece Invece Guarda Il pallino Guardo Qui Qui Perché Cioè nel senso Nemmeno ci avessi da guardarmi Perché sto bella Cioè Oddio Il mio ci ho metto Con la vita che ho fatto Devo dire Che con le tacche Mi porto Sta scherza Comunque E Mi riesce benissimo A Inglobare Le ciglia mie Con le ciglia finte Mentre Oltretutto Perché mi piace Perché Oltre a Volumizzare Tantissimo E separare tantissimo Le ciglia Le Volumizza anche Quindi Fa entrambe le cose Non è uno di due mascara Che per funzionare Dovete dare 8000 passate E dovete stare Anche molto attenti Come lo fate Perché Ci sono dei mascara Per esempio Questo che sto utilizzando Adesso Mi torna male Ultimamente Perché mi tocca Darci 1000 passate Prima che venga qualcosa di buono Nel senso Mi le passate E date bene Quindi Partire da fondo Alle ciglia Invece questo Voi lo prendete Tirate su E il lavoro È già fatto Cioè Non Non c'è bisogno Di fare grandi cose Madonna Mi piace un sacco L'odore dei mascare E quindi Devo dire Che questa volta Mi è piaciuto molto A differenza del Mi Guardate Vi prego A differenza Del Miss Manga Che invece Mi ha fatto riesce Adesso Vi faccio vedere Gli ultimi tre Che sono veramente La bomba Della bomba Della bomba Della bomba Abbiamo capito Allora Le mie bombe Sono queste tre Le mie bombe a mano Sono queste tre Allora Partiamo con quello più abbordabile Perché gli altri due Hanno anche un prezzo Parecchio più elevato Parecchio più elevato Non si dice Comunque io ho queste sopracciglia Che se non lego i peletti Aggiuntivi Che dovrei togliere È diventata una tragedia Comunque Allora Che poi una volta C'avevo pure il cosino Per togliere Invece niente Allora Quindi partiamo con questo Allora io questo Oramai sono tre mesi Che ce l'ho Perché ancora Non era uscita Neanche la pubblicità Su Su internet Dai Amici L'apofaffa Un video di mascara Ce la puoi fare Non Era uscita Neanche la pubblicità Io l'ho trovata per casa La copp E perché l'ho preso Perché lì per lì Non avevo visto neanche Che era l'Oreal Ma Con la copertina esterna Con la copertina esterna Cioè no Veramente Cioè sono Guardate veramente Io qualche volta Mi chiedono Ma come fa la gente A guardarmi Cioè forse proprio perché Sono un po' Un pagliaccio Capito Cioè dico tante di quelle fregnate Che alla fine Mi sono portata quasi via Il microderma E mi sembrava Un Benefit Perché la Il packaging Era Molto molto simile A quelli che fa la Benefit Non me lo spiego Cioè nel senso Non riesco a spiegarmi Tipo per il cartoncino Capito come Uguale Quindi l'ho preso Così perché costava Tipo 9 euro Non avevo visto ancora La pubblicità Ho detto No Cioè questo non ce l'ho Non ce l'ha nessuno Lo devo provare Poi naturalmente Non avevo ancora Il canale riaperto Cioè chi lo faceva vedere Aminon Allora Questo è il Paradise Oramai tutti I buoni mascara Comunque All'interno Hanno le Fibre Cioè nel senso Quasi tutti Cioè quando aprite Mascara E vedete queste Strabordanze Strabordanze Del mascara Questi peletti Sono le fibre Lo scovolino È di quelli Appunto Secondo me Questo è Velcro E gli altri Tipo questo Che silicone Ce la posso E lo scovolino È di quelli Normalissimi Allora Questo mascara A me è piaciuto Tanto Perché è molto Molto Volumizzante Vi fa le ciglia Proprio A ventaglio Lo dovete Un attimo Lavorare Ma Semplicemente Perché ha una Consistenza Un po' Più solida Rispetto agli altri Ma devo dire Che per nove Dettissimi euro Sono nove euro Ben spesi È buono 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 Mi piace un sacco E inizialmente È anche più buono Perché Essendo molto sodo Ora sta diventando Ancora più sodo Quindi ora faccio Un po' più di fatica Ora Cioè io c'ho Mille euro di mascara Sopra queste ciglia Però va bene Mi viene spontaneo Dimmi Comincia E arrivo Dobbiamo guardare Gomorra E quindi vi faccio vedere Gli ultimi due Allora Gli ultimi due Sono quelli che costano di più Però sono quelli più bomboloni Allora Questo è il drama Che mi è stato regalato Da una cica Un botto di tempo fa Quando stavo ancora a Caldana E io non mi ricordo neanche Come si chiama Ma lei mi deve perdonare Che addirittura C'era lo struccantino Cioè Io senza di voi Cioè Ma che sarei Cioè una disgraziata Ma poi La gente c'ha l'azienda Ma a me che cazzo Mi pregare l'azienda C'ho amici Che mi adorano E a me basta quello Cioè Mi fate talmente tanti regali Mi lasciate sempre Così Comunque Questo è il Lancome Drama Che ha un costo bestiale Di tipo 35 euro E poi c'è lui Che secondo me È la svolta Della svolta Cioè Questo è il prodotto Top Dell'anno 2017 Ed è il Bioniche Defense Color Color 3D mascara Un mascara Che costa 22 euro Allora Io questo l'ho preso per caso In farmacia 22 euro Mentre questo è un regalo Allora Partiamo con il drama Perché bene o male Ve ne ho parlato molto spesso C'avevo Quello piccolo E mi sono innamorata subito Del drama Perché è un mascara Che vi Separa molto le ciglia E le fa a ventaglio Che è una cosa Esagerata Cioè una volta avete usato lui Voi Mascara semplice Normali Da persone Sulla terra Non le usarete mai più Il suo scovolino È questo Leggermente Incurvato Ha un odore Che è qualcosa Di sublime E Eccezionale E questo appunto È l'ipnos drama Cittine Io veramente Cioè Vi fa proprio Queste ciglia Che io adesso Su Se usate L'ipnos Se usate il drama Ce l'avete Uguali Cioè nel senso Ve le allunga Da fa paura Ve le districa Benissimo Ve le volumizza In una maniera esagerata È micidiale E poi arriva lui Io lui l'ho preso per caso Perché non sapevo neanche Cioè la bioniche Mai usata Questo è Già il pegging Rosino Così mi fa impazzire Noi stavamo Era ancora Quando si stava A San Donato Preso per caso Vado a casa E lo provo Lo scovolino È questo Comunque Cicciottello È leggermente Schiacciata I laterali Io Vabbè anche lui Ha le fibre dentro E si vede benissimo Anche lui Ha lo stesso odore Del drama Ed è meraviglioso Ed è qualcosa Di fenomenale Cioè Non avete bisogno Di mille passate Con una passata Vi districa Volumizza E allunga Cioè Ma ora voi mi direte Ci ha detto di tutti La stessa cosa Però è così Quando un mascara È ottimo Questo è il lavoro Che fa Volumizza Ma ce la farò Di due parole Senza comprare la voale Volumizza Districa E Allunga Questo è quello Che fa un ottimo Mascara Quindi Vi dico sempre Le stesse cose Ma questo è Io Appena l'ho dato La prima volta Sono rimasta Basita Ha un risultato Eccezionale Ed è Il mascara Della vita Quindi se avete 20 euro Da spendere Per un mascara Cioè Senza neanche Pensarci Ora 35 Già cominciano A essere una spesa Un po' troppo Elevata Ma 20 euro Valgono Tutte Lo comprate Vi valgono Tutte le 20 euro Non lo rimpiangerete Mai Io oramai Sono 4-5 mesi Che ce l'ho Non solo Non si è seccato Ma continuerò A darlo tranquillamente Senza bisogno Che si secchi Per altri 5-6 mesi E È veramente Il prodotto top Dell'anno 2017 Quindi se vi capita Non ho collaborato Con la Bioniche Ma è ciò che penso Quindi se vi capita Di provare Questo prodotto Fatemelo sapere Naturalmente Se l'avete provato Ma è eccezionale Naturalmente Se poi date 3-4 passate È la fine Cioè voi le ciglia finte Ciao Le buttate via Ecco questo è uno Di mascara Che vi può rendere Le ciglia Come le ciglia finte No quelli che dicono La pubblicità Oh il ciglia finte Il ciglia finte Questo Questo E il drama Sono il ciglia finte Cioè voi Con questo Vi fate il ciglia finte Va buono Bimbe Comunque Basta Non ho bene o male C'è altro E altro da dirvi Perché comunque Il succo è questo 22 minuti Di video Qualcuno mi dice Le faccio brevi Ah ragazzi Cioè Il Il tot di minuti Guardate nei miei video È 10 minuti neanche Quindi cioè vorrà dire Che la gente Li viene sulle palle No Sì chi mi ascolta Perché vi vi piaccio Avevo piacere Ma insomma Ok bambole Io me ne vado a vedere Gomorra Perché comunque Questa terza stagione Sì ma insomma Non è che Mi ispira più di tanto Io vi mando Un grande bacio Spero che questo video Vi possa essere stato Utile E niente Sto preparando Il video Su quello che mi è successo State tranquilli Lo farò Ho visto qualche commento Di qualche ragazza E comunque mi ha fatto Delle domande Un po' personali Io vi rispondo ragazze Perché non ho Cioè io non mi nascondo Dietro a niente Dietro a nessuno Proprio per questo Però vi voglio fare Un video Per comunque Cercare di spiegarvi Alcune cose Perché per chi C'è passato Mi capisce Ma chi c'è passato Non capirà mai Forse Cercando un po' Di spiegarvi Al migliore dei modi E se poi vedo Che farò Un video troppo spinto Anche a parole Lo vieto A un limite di età Ho visto Cioè no Babbo Io vi saluto Vi mando Un grande bacione Se più tardi Dopo Il film Ci ho voglia Vi faccio pure Il video di Lip Ma ho mandato Giorgia Che merita Quindi fate le brave Splippeggiate poco Io ve au Siete là My life Siamo quasi arrivati A 39.400 E io non ho veramente parole A 39.500 Famo Il giveaway Ciao Vabbolo Le belle Ah I Aline Abbiamo un video Da farvi Che sto sicura Vi piacerà Tantissimo Ciao Belle Tantissimo 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 Grazie.